Il telecomando? Ma che è il canale 5? Posso provarlo? Non va, 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 non va. Non va, 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 non Non va, non va. 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 Non va, non va, non va. Non va, non va, non va. Non va, non va. Non va, 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 non va. Non va, 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 non va, non va. All'altra, non va, non va, non va, non va, non va.